Un'assemblea molto importante, si è discusso di argomenti vitali per la categoria, si è parlato di mutualità, di cercare di trovare degli accordi per migliorare i flussi a riguardo per le società che oggi soffrono veramente un momento molto complicato. Si è parlato anche di riforma dei campionati e soprattutto si è parlato di una situazione particolare che affligge la categoria, una società che in questo momento purtroppo sembra in gravissima difficoltà e la problematica che ci si è posti è l'effettiva incidenza di questa situazione sulla regolarità del campionato. In questo devo dire che c'è stata una discussione approfondita e si sono assunte delle posizioni in merito che sono quelle di voler tutelare al massimo la competizione. Mi dispiace per la situazione del Bari perché è una situazione che ha colpito società, che colpisce comunque amici, persone che si conoscono, ma è chiaro che è un problema che si riverbola sul campionato e sul sistema. Tutte le volte che si verificano ipotesi di questo genere è un fallimento per l'intero sistema perché significa che siamo di fronte a un sistema che non riesce a creare valore. Oggi l'azienda calcio purtroppo si trova in una situazione di difficoltà, in Italia specialmente è difficile fare utili se non in Serie A. La Serie B è una categoria di mezzo tra la Lega Pro e la Serie A, una categoria di passaggio, una categoria molto importante perché comunque ha dimostrato negli anni di saper valorizzare i giovani. In questo devo fare sempre i complimenti al Presidente Abodi perché si è dimostrato molto volitivo e molto fantasione dove trovare anche soluzioni che hanno portato dei vantaggi di visibilità all'intero movimento. Con il Presidente Abodi che soluzione si è prospettata appunto per il Bari? In merito alla situazione direttamente del Bari non è che ha coinvolto direttamente l'Assemblea, sarà una situazione che dovrà essere attenzionata dalla società stessa. Il problema che è sorto in un'Assemblea del quale si è discusso e del quale si discuterà sarà di cercare di mantenere una stabilità del campionato, una regolarità della competizione che diventa fondamentale. Anche perché l'ipotesi che è stata ventilata in settimana con questo comunicato stampa è un'ipotesi che è giunta a tutti noi come una situazione comunque aspettata, non è giunta come un fulmine a ciel sereno. Il che significa che ci siamo posti delle domande, delle domande che coinvolgono l'iscrizione ai campionati, delle domande che coinvolgono la regolarità delle competizioni, delle domande che coinvolgono anche i ripescaggi. Oggi è stato deliberato dall'Assemblea il blocco dei ripescaggi, quindi anche in questo senso si è avuto una discussione aspra, accesa, comunque leale tra tutti. Lei è rappresentante del Novara, una società che attualmente lotta per il traguardo della salvezza come il Bari. Come società come vivete questa situazione? Innanzitutto il Novara come è sua abitudine cerca di pensare a conquistare i punti sul campo, ma è chiaro che la regolarità della competizione nasce prima fuori dal campo, perché allora quando un club comunque si dimostra rispettoso delle norme, rispettoso dei pagamenti, è sempre regolare nel pagamento degli emolumenti, si trova in una situazione di svantaggio allora quando altri hanno situazioni di sofferenza, situazioni di sofferenza che però si riverberano dal punto di vista tecnico, perché ovviamente non poter investire denaro per poter pagare i giocatori non ti consente in molti casi di fare mercato come altri hanno fatto pur in assenza di risorse. È chiaro che la situazione è una situazione particolare, io guardo in casa della società che assisto e quindi si punta sicuramente per forza a una salvezza sul campo. Il problema che viene sollevato oggi è un problema di sistema, un problema di un sistema che deve essere capace di produrre utili e soprattutto deve mettere dei limiti seri all'escrizione ai campionati, perché devono comunque partecipare ai campionati le società che meritano e che hanno le risorse per poter far fronte agli impegni, non soltanto con i calciatori ma con tutti gli altri dipendenti che comunque lavorano e impiegano del tempo, delle risorse, spendono tempo, denaro e famiglia. La famiglia ne soffre perché comunque si è sempre lontani da casa e quindi devono essere tutelate anche queste persone.